Presidente, come valuta la bocciatura del Governo alla trivellazione? La valuto molto positivamente perché è una promessa mantenuta. Ci siamo impegnati tutti per salvaguardare il nostro territorio sotto il profilo ambientale. Ritenevamo che queste trivellazioni potessero determinare dei danni, comunque non fossero auspicabili e quindi abbiamo fatto non solo azioni amministrative che hanno portato a non avere nessun tipo di trivellazione sul territorio da quando noi abbiamo l'onere di governare la Regione. Ma abbiamo svolto anche un'azione politica affinché il Governo nazionale prendesse una serie di determinazioni che poi si sono concretizzate con il provvedimento che il Ministro Prestigiacomo ha fatto. Quindi direi molta soddisfazione da parte nostra, un'altra promessa mantenuta perché prima della campagna elettorale questa fu una delle cose sulle quali noi eravamo attaccati fortemente, mentre invece la nostra intenzione era quella che stiamo dimostrando nei fatti, ingiustamente attaccati e invece abbiamo mantenuto la promessa che abbiamo fatto agli abruzzesi. Non è l'unica di quella che abbiamo mantenuto. Continueremo a portare avanti i nostri progetti sperando che si voglia speculare sempre di meno su quelle che sono presunte intenzioni e non sui fatti. Valutiamo i fatti e poi ci esponiamo ovviamente al giudizio di tutti.